Il risultato per Fratelli d'Italia sembra essere molto lusinghiero? Dai primi dati sembrerebbe essere così, chiaramente aspettiamo domani, siamo cautamente positivi e comunque soddisfatti, ma aspettiamo domani perché poi il vero risultato lo daranno le urne. Però in qualche modo in queste settimane avrete sentito il clima, l'atmosfera, il rapporto con la gente, e vi diceva che questo sarebbe stato il risultato di questi dati. E allora sicuramente durante la campagna elettorale immediatamente ci siamo resi conto che la scelta dell'onorevole Meloni e cioè di appoggiare il candidato Nello Musumeci a Presidente della Regione era stata sicuramente la scelta giusta. Il Presidente, il Presidente, pardon, speriamo il futuro Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è sicuramente apprezzato come figura, come persona in tutto il territorio siciliano, quindi scelta migliore noi non potevamo fare. Cosa vuol dire per la Sicilia se i dati si dovessero confermare domani? Ma secondo il mio parere per la Sicilia significa una ripartenza, veramente dare una svolta. Dopo il governo Crocetta, che è stato un governo che ha semplicemente parlato di riforme, è stato un governo di enunciazioni. Ecco, come se eravamo continuamente in campagna elettorale, ma di fatti concreti non ne hanno realizzati. Secondo me, grazie alla presenza di Nello Musumeci, ripeto, persona competente, ha dimostrato di essere persona competente, la Sicilia può finalmente ripartire. Ci sono però troppe liste, troppi partiti collegati a Musumeci? Assolutamente no, il partito che c'è, c'è Fratelli d'Italia, noi con Salvini, ma che comunque, se lo vogliamo dire, è stato trainato da Fratelli d'Italia, perché la presenza vera ed importante in Sicilia è quella di Fratelli d'Italia, Forza Italia, l'Udc, gli autonomisti. Sono parecchi, no? No, non credo siano parecchi, perché comunque siamo una coalizione abbastanza amalgamata, non credo che ci siano delle discordanze sul programma, il programma è stato presentato ed accettato da tutti. Aspettiamo domani a questo momento? Assolutamente sì.